COMANDANTE Non posso darti nessuna autorizzazione Stronzate Sei in debito con me per Pripyat E sono venuto a riscuotere Calma, amico E va bene Abbiamo seguito la nave da carico Fino a una società di Bosaso in Somalia È gestita da un certo Warabi Un vero bastardo Io ho già abbastanza gatte da pelare qui Dovrei fare da solo Buona caccia Che mi dici della sicurezza? Niente di speciale Il complesso è sorvegliato da gente dell'uovo Faremo nell'occhio come un cane a tre teste Dovremmo agire di nascosto Ci toccherà buttare giù la porta Dì a Nicolai di allertare gli uomini Sbrigatevi Cattureremo Warabi prima che riesca a fuggire La tempesta si sposta in fretta Dobbiamo muoverci In posizione oltre il cancello Bravo Nicolai Indevoli Versagli davanti Attacare 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 Sposta con i bastardo di fasto Sposta con i bastardo di fasto Unisciutto Il complesso l'intorame è imposto alla sala L'intorale Non fatevi bloccare, guardate! Yuri, hai tu i comandi! Falle fuori! Uccisione confermata, ben fatto! Spero di non perdere la mia persona. Ben fatto, davvero un'ottima mira. C'è l'occaso poco. Versagli distrutti! Ben fatto, Yuri! Continua a farciare il fiume! Eseguo la manovra per un secondo attacco. Andiamo! Dobbiamo raggiungere Warabi! Vado! Vado! Il movimento sul tetto! Furgoni, arrivo da nord! Andiamo! Sì, troviamo Warabi! Sì! La torretta radiocomandata è online. Altre troppe in avvicinamento! In posizione per l'attacco. Iuri, usa la torretta radiocomandata. Fornite fuoco di copertura, così possiamo avanzare! Per fargli vicino alla roccia grande! Ok, il 90! Sono pronto per un altro attacco! Guardate! Guardate! Vino a guarda! Vino a guarda! Vino a guarda! I versaggi se riparano dietro al culo! Visto! Visto! Visto del mondo! Vino a che andrà! Visto! Abastassi! Visto! 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 Poi puro contre l'atto! Visto! 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 Vi saluta tra casa! Allora opposita! Versi! Siamo! No, 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 no. No, no, no. Su, troviamo quel bastardo! Squadra ECO, stiamo entrando nell'edificio! Nicolai, preparati per l'estrazione. La squadra ECO è in attesa. Occhio agli angoli! Possibile contatto su Warabi al balcone del secondo piano. Ricevuto. Possibile contatto su Warabi al secondo piano. Bravo, uno. In posizione. Stiamo aggirando. Diversi nemici entrano nella stanza al secondo piano. L'ufficio di Warabi è in attesa a noi. Questa è la parte del suo ufficio. Ok. Fate attenzione. Ci serve lì. Indossate le maschere. Lo riconosci? Mi prego! Dov'è Makarov? Dimmelo ed è tua. Il nostro contatto era un certo folk. Non l'ho mai visto, Makarov! E questo folk dov'è? Il tempo stringe, amico? A Parigi! Si è occupato della corsa in Lamparigi! Beh, questo è per i ragazzi di acqua. Nicolai, Warabi è seduto. Abbiamo quello che serve. Pronti per l'estrazione. Ci sono quasi. Sì, la ZA è libera, ma la Tempesta di Sabbia si avvicina. Lo vedo. Saremo lì tra venti secondi. La tempesta è immensa. L'ultima cosa che ci serve è finirci lì. Andiamo. Credi che Warabi abbia detto la verità su folk? Ne sono sicuro. Scommenterei la vita di Makarov. Perché io? È bloccato! Tieni via di lì, Nicolai! A riparo! Contatto a destra! A destra! Fa sbagliarsi! Romante copertura! Stagliore 11! Sui senti! Nicolai, cambio di piano. Vai alla stessa A secondaria! La Tempesta di Sabbia si avvicina. Se arriva, non potrò atterrare. Tu aspetta cilindro! Sì, 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 cilindro! Contatto a ore 12! Sì, cilindro! Sopritemi! Il sangue ha lo sofferto! Dobbiamo raggiungere le petate modalie prima che arrivi la tempesta! Andiamo! Sopritemi! 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 Continuiamo ad avanti! Contatto a ore 10! Contatto a ore 10! Contatto a ore 10! La FTA è vicina! Mori a Evoce! Defy! ZTA in vista! Sfricatevi! 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 Fermatevi! Sfricatevi! Sfricatevi! Contatto a ore 10! Andiamo raggiungere il prossimo piano! Andiamo! Primo piano libero! Muoversi! Attenzione! Inizio a avvicinarmi alla ZA! Ci vediamo in cima, Nicolai! Conto piano libero! Non fermatevi! Nicolai! Noi siamo alla ZA! E tu? Ci sono quasi! On questione! E' troppo rischioso! Non posso aterrare! Ioni! Vai alla torretta! E falli fuori! UN CHEYON UN CHEYON UN CHEYON UN CHEYON